Il Tris sul tavolo del campionato non è il solo, ma l'Unione Calcio Bisceglie di fatto risponde al Gravina anche dopo questa giornata, restando a fianco dei murgiani in testa alla classifica del girone A di promozione. Tutto merito del successo, che vale appunto il Tris e il punteggio pieno, ai danni di un Noci mai d'uomo, soprattutto dopo aver riaperto la gara a metà della ripresa. Sino a quel momento la squadra allenata da Mimmo Di Corato sembrava in perfetto controllo del pomeriggio. Del resto, dopo soli cinque minuti, i biscegliesi trovano il vantaggio con Vittorio Costa che finalizza l'assist di De Santis. Gara in discesa e Unione Calcio che il raddoppio lo potrebbe trovare con Amedeo Dipinto se non fosse fermato con le maniere forti al limite dell'area di rigore. Allora ci pensa De Santis, con il calcio piazzato, a vendicare il compagno di squadra e siglare il 2-0. Potrebbe essere l'avvio di una goleada ed invece nel finale di tempo il Noci si rende pericoloso con Donghia, la cui conclusione impegna un inoperoso fino a quel momento Delfino. Sono segnali che l'Unione Calcio non sembra cogliere e che invece andrebbero letti con attenzione, visto che al tredicesimo della ripresa il fallo di Papagno su Recchia consegna a quest'ultimo l'opportunità dal dischetto per riaprire la gara. Delfino però è ingiornata e conserva il risultato, che potrebbe essere arrotondato, in favore dei biscegliesi, dal diagonale dell'Annunziata ed invece viene rimesso in discussione dalla conclusione vincente di Donghia. Il Noci prende coraggio ma trova Delfino sulla strada del possibile pareggio, prima sulla conclusione di Giovannelli e successivamente sull'azione d'angolo che ne scaturisce. L'Unione Calcio a quel punto serra le fila e abbassa i ritmi per conservare una vittoria che resta tale anche dopo l'ultimo tentativo su punizione di De Santis. Il tris è servito.